C'è ancora apprezzione nei comuni a rischio per la nuova alerta meteo prorogata fino a domani. A Monteforte e Erpino invece si contano i danni dopo l'alluvione di ieri che ha distrutto autostrutture. La furia del fango e dell'acqua ha completamente devastato la farmacia del paese. A Monteforte è arrivato anche il presidente di Federpharma Campania Avellino, Mario Flovilla, per manifestare la sua vicinanza. I danni potrebbero arrivare intorno ai 300 mila euro, considerando la farmacia, considerando le scorte e le giacenze che comunque noi farmacie dobbiamo tenere in dotazione. In più la stigliatura, che era parte antica, ma parte era nuova, rinnovata da qualche anno, è intorno ai 100 mila euro. Il sindaco ha dato la massima disponibilità almeno a trovare delle soluzioni provvisorie, quindi ci ha garantito che ci metterà a disposizione alla collega un locale dove, appena possibile, possa riprendere il servizio e quindi erogare l'assistenza ai cittadini. Questa mattina invece riunione tecnica al comune tra sindaco e istituzioni. Al momento ci sono formalizzati tre sfollati, ma si stanno formalizzando i provvedimenti per le tante abitazioni che sono state oggetto di interventi di espurgo in questo momento. Quindi noi possiamo dire che ci sarà una nuova allerta, andremo solo a monitorare man mano che questi fenomeni si andranno a formare sul nostro territorio dove saranno i possibili impatti. Questa volta è stato secondo me dieci volte peggiore dell'altra volta. Noi comunque quello che dovevamo fare stavamo facendo, le somme urgenti le abbiamo fatte. I geologi stanno studiando, il professor Rucciuoli, noi in due anni abbiamo fatto tanto e abbiamo fatto proprio quello che era necessario, la sommorgenza, che quella era necessaria. Purtroppo con questa bomba d'acqua all'improvviso, perché le bombe d'acqua non si possono comandare, è successo il finimondo e anche con dieci sommorgenze non si risolveva niente. Guarda lì, se lo stai scavando non ti è ruvato.